Trasferta spigolosa, quella del canicetti calcio al Franco Lomonaco di Partanna-Mondello a Palermo contro la Parmonvale valida per la diciannovesima giornata del campionato di eccellenza Gironea. I biancorossi del presidente Sandro Giglia occupano attualmente la quarta posizione ma la Parmonvale è in agguato con un punto in meno. La squadra di Giovanni Castronovo è quella bestia nera che all'andata aveva inflitto la prima sconfitta stagionale al Carlotta Bordonaro all'undici biancorosso. Quindi si tratta di uno scontro diretto. L'avversario non va sottovalutato, mai nelle prime diciotto giornate la Parmonvale aveva raggiunto quota 33 punti, mai nelle prime diciotto gare la Parmonvale aveva distanziato la zona play-out e quella retrocessione con così tanto distacco. Sono tredici punti in più del Profavara, undicesimo e diciannove rispetto al Musumeri penultimo. In ottica play-off la Parmonvale si trova oggi al quinto posto, valido per staccare il pass. Ci attende a una partita difficile, ha detto il patron della Parmonvale, l'avvocato agrigentino Giovanni Castronovo contro la corazzata Canicatì che tra l'altro ci ha scavalcato in classifica. La squadra dovrà sciurinare una prestazione convincente di qualità, di quantità, orgoglio e grinta. Senza questi requisiti rischiamo di far brutta figura contro una formazione che è riuscita a risalire la classifica ben allenata da Sebi Catania con una grande dirigenza e giocatori di altra categoria. Li accoglieremo al meglio perché in primis è un onore ospitare una squadra con il blasone del Canicatì e poi per ricambiare l'ospitalità ricevuta a casa loro. Sarà certamente una grande giornata di sport ma se vogliamo continuare a sognare dobbiamo fare il risultato giocando da provinciali senza snaturarci e con il coltello fra i denti. Dirige la gara il signor D'Angelo di Trapani.